Per l'anno 2015 l'indicatore LEA per l'Abruzzo, che fotografa i livelli essenziali di assistenza sanitaria, si attesta a 182 punti, includendo per il secondo anno consecutivo la regione tra quelle pienamente adempienti, il punteggio minimo a 160. A ufficializzare il dato, comunicato dal Ministero della Salute, è stato l'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci. Rispetto al 2014 si registra un ulteriore balzo in avanti di 19 punti, centrando un traguardo che mai era stato raggiunto nella storia dell'Abruzzo. Tra il 2009 e il 2015 il punteggio LEA è passato da 120 a 182 punti, con l'incremento più consistente proprio tra il 2014 e il 2015, pari all'11,7%. Nel punteggio 2015 i risultati più importanti riguardano la prevenzione e l'assistenza distrettuale, quella territoriale, cioè che hanno registrato un incremento di circa 10 punti. Resta buono il punteggio dell'assistenza ospedaliera, che rimane costante dopo la crescita già certificata tra il 2013 e il 2014.